Il caso più eclatante di rifiuti tossici scoperto in Molise porta in un seminterrato di Castel Mauro, al centro del paese, nella casa della famiglia De Notaris. Più che una scoperta fu la conferma delle voci che nel corso degli anni si erano rincorse sulle attività dell'ingegnere Quintino De Notaris scomparso qualche anno fa in Sud America. Quasi duemila i fusti che sono stati rimossi da quella cantina in un'operazione di bonifica che però non è ancora conclusa. In procura Larino aveva continuato ad approfondire il caso Nicola Magrone ma al di là di qualche ipotesi di fossi in cui sarebbero stati interrati altri bidoni tossici e radioattivi non si è mai andati, le ricerche non hanno dato alcun esito. Non si sono visti nemmeno i camion di una nota ditta del napoletano che a dire dell'allora giornalista del mattino Rosaria Capacchione andavano in su e in giù per il Molise scaricando tonnellate di veleni nella zona di Termoli. Per un po' i riflettori sono rimasti puntati sul nucleo industriale ma dei camion nessuna traccia nel frattempo. Rosaria Capacchione è stata eletta in Senato. Altra indagine, questa sì aveva un fondo di verità, era stata aperta dalla direzione distrettuale antimafia di Campobasso e aveva messo nel mirino alcune cave del Venafrano e dei siti nella zona di Pozzilli. L'aveva condotta per mesi il capitano Bandelli, comandante della compagnia dei carabinieri di Venafro. Poi l'inchiesta, pare una decina di faldoni messi insieme dagli investigatori, è stata assegnata alla procura di Napoli mentre il capitano Bandelli è stato trasferito nel Lazio. Ora in via l'Elena a Campobasso la DDA potrebbe rimettere insieme alcuni pezzi di quell'indagine e riprendere le ricerche nelle aree già indicate nel lontano 1997 da Carmine Schiavone. Di certo tra i magistrati dell'antimafia in programma una riunione dalla quale potrebbe essere deciso, almeno in questa nuova fase, di ricontrollare le cave al confine tra la provincia di Caserta e quella di Isernia. Tra ciò che aveva raccontato il boss dei casalesi ai magistrati e quelle che già allora erano le voci che circolavano nei paesi di quel perimetro, è evidente che se qualcosa è successo è lì che bisogna cercare.